come mi ha vinto il tiziano? ah! oh mio dio sei strani giallo? si si tiziana sei una punza ma come è bello questo cane ma che è qua ha fatto un buon ore tiziana e oduppa è sexy oduppa eee eee ma lei si è tutta protratta in avanti ti sei protratta in avanti io non so neanche che significa protratta tiziana tiziana hai mangiato troppo panica brava tizia vengono 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 no vabbè meglio di io è poco illuminato il campo francisco perchè non lo fa usare la pallina? vengono 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Elin, Elin, Elin! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché non l'hai rallentata un attimo? Perché è uscito a sparare dall'alto? Perché è uscito a sparare dall'alto? Perché è uscito a sparare? Perché è uscito a sparare dall'alto? E' partito la prossima, eh l'ho vista, sono fatto pure il video. Ah, finalmente. E' partito la prossima. E' partito la prossima. E' partito la prossima. La prossima.